Una data imprecisata, carico questo video YouTube, il Naviglio della Martesana, bello. Questo luogo mi è comune e ricordo circa dieci anni fa, mi ricordo, venivo qua a fare la passeggiata del Naviglio e andavo a trovare un mio amico di nome, soprannome Bandana. Siamo rimasti amici da tanti anni, ci sentiamo mediante YouTube, email, sms. Eccolo qua il Naviglio. Sono in questo luogo della via Melchiore Gioia. Qui il Naviglio va sotto la strada e anni dovrebbero riaprire ancora il Naviglio in via Melchiore Gioia come una volta. Però non si è capita bene la decisione sul da farsi. Va che bello questo luogo qua, che venivo anni indietro. Sebbene sono passati tanti anni, lo ricordo sempre familiare questo luogo. E vado a una montagnetta dove in agosto avevo conosciuto mio amico che prendeva il sole, di cui poi fu, ed è tuttora, il mio modello per quadri artistici. Il tempo è passato, il fluire dell'acqua dà un senso che la vita continui, continui, anche se qui ho ricordi sia tristi che felici. Saluto i miei ascoltatori di YouTube. Poi riprendo la seconda parte del video, più avanti, dove la percorrenza vitale continua attraverso il fluire dell'acqua nel Naviglio della Martesana Aldo.